Il brano che leggeremo domani della parasha è la parasha di Vayetze, una parasha abbastanza conosciuta, abbastanza importante, abbastanza famosa, appunto che ci racconta Yaakov che fugge dal fratello Esav per andare da suo suocero Labano a Haran e appunto nella prima nottata che si trova da solo fa questo strano sogno di una scala fissata in terra che arriva fino in cielo e degli angeli che salgono e scendono. Poi vedremo che arriverà da Haran, da suo suocero e rimarrà per ben 20 anni sposando le sue due figlie con due ancelle e da queste quattro mogli avrà poi 11 figli maschi e una femmina, il dodicesimo figlio gli nascerà appunto uscito da Haran quando ritorna verso la casa paterna e questi 12 figli dicenderanno appunto le dodici tribù. La parasha inizia appunto con Vayetze, Yaakov mi Bershava, Yaakov appunto esce da Bershava per andare verso Haran, tramontato il sole e per notta lì in quel posto in cui si trova prende delle pietre come giaciglio e si addormenta. Fa uno strano sogno, ecco che aveva una scala che era appunto piantata in terra e la scelma arrivava fino al cielo e da questa scala Malachè Ruim, gli angeli di Dio, salivano e scendevano. Vediamo che qui gli appare Kadosh Baruchu in visione e gli dice io sono il Dio di Abramo e di Isacco, tuo padre, la terra in cui tu appunto ti trovi ora io la darò a te e alla tua discendenza. Vediamo che... e gli dice ancora io sarò con te Kadosh Baruchu, ti proteggerò in qualsiasi posto tu andrai ma ti farò ritornare poi in questa terra perché io non ti abbandonerò. Tutto ciò che ho promesso io con te farò. Iacov si sveglia e dice allora c'è Dio in questo posto e io non lo sapevo. Ebbe molto timore e quindi prese la pietra che aveva usato come giaciglio, ci fa un altare e dice questa è la casa del Signore. Cerchiamo di spiegare un attimino questo primo brano. Tanti i nostri rabanini dicono perché dice Vagliezzè Iacov e uscì Iacov e invece in realtà non uscì ma fuggì dalla casa paterna. Perché quando uno fugge comincia a avere tremore, timore, paura, non è più conscio delle proprie azioni, mentre invece Iacov sa di avere vicino a sé, accanto a sé, Kadosh Baruchu e quindi è più tranquillo. Uno esce quando è più tranquillo, fugge invece in realtà quando non riesce più a dominare i propri sentimenti e le proprie azioni. Vediamo questa scala di angeli che salgono e scendono, ci sono molte interpretazioni. Alcuni rabbanini spiegano che erano gli angeli che accompagnano una persona e lui andando fuori da Erez Israel viene sostituito con altri angeli. Quindi questi angeli che lo accompagnavano in Erez Israel salgono e ne discendono degli altri. Altri commentatori invece spiegano che queste sono le nostre preghiere. Le nostre preghiere che salgono e arrivano fino al cielo. E infatti a un certo momento Iacov dirà che questa è la casa Zeshara Shammain, questa è la porta dei cieli in cui le nostre preghiere possono arrivare. Sappiamo che appunto verrà chiamato Bet El quel posto, la casa di Dio, non è altro che il monte Ar-Murian in cui appunto doveva essere sacrificato Yitzchak, ma in seguito verrà costruito il Bet Amikdash. Sappiamo che il Bet Amikdash è la porta in cui le nostre preghiere devono essere rivolte per arrivare al cielo. Noi quando preghiamo ci rivolgiamo sempre verso Yerushalayim dove c'è appunto il Bet Amikdash, il Sacro Tempio di Salomone e se uno si trova in Erez Israel si rivolge verso Gerusalemme, a Gerusalemme è proprio verso il Coder dove c'era appunto il Bet Amikdash perché è da lì che le nostre preghiere salgono. Vediamo che a un certo momento fa una preghiera, un voto Yacov e dice che se il Signore sarà con me mi proteggerà e mi darà pane per mangiare, uveg di rivolce, vestiti per indossare. Quindi la preghiera che chiede e quella che noi dobbiamo imparare appunto da questi versi è che noi non dobbiamo chiedere più di quello che abbiamo bisogno. Yacov vi chiede soltanto il pane per poter mangiare, chiede soltanto un vestito per poterlo indossare, non chiede niente di superfluo e vedremo e fa un eder che una parte di quello che lui ricaverà e guadagnerà lo darà ad Hashem, cioè viene dato ai poveri e quindi questa è la preghiera che noi dobbiamo adottare, cioè chiedere l'indispensabile ma quello che abbiamo in più, donarlo a chi ne ha bisogno. Grazie a tutti e Shabbat Shalom.